Il cofano della macchina sostituisce il banco. Studiano il percorso che da Padova le porterà a Bressanone. Si parte all'alba dal cortile della fiera campionaria. Non è però una corsa, nonostante le molte macchine sport. È una gara di regolarità e di abilità, riservata agli studenti universitari. A Bressanone sosterranno gli esami di laurea. La tesi da affrontare è difficile, tortuosa per essere esatti. Ma sembra che tra i birilli questi universitari si trovino a loro agio. Meglio forse che tra le dispense. Sono bravissimi. Probabilmente si sono allenati attraversando Roma o Milano nelle ore di punta. Ma che diciamo Milano? Tortona, Pistoia, Viterbo, Foggia. Una città qualunque di questa Italia felice tra i motori.